Allora, ora parlerò in parte in italiano e parte in inglese, quindi vado a spiegare come individuare i BAP, quindi questi punti, sul viso della paziente. So, I want to show you the way we can find the BAP on the patient's face. Se avete domande potete intervenire tramite la chat di Zoom e quindi cercheremo di rispondervi tutti. If you have the question, it's possible to chat in the app, in the Zoom app, and we answer. Il primo punto si trova andando sull'osso zigomatico due centimetri dal canto esterno dell'occhio. So, first BAP is located on zigomatic bone going out from external of the eye from two centimetri. Here. Il secondo punto si trova individuando la linea che unisce l'ala del naso con il trago. In English. For the second point, we have to find the line from the wing of the nose to the tragus e poi la line interpupillare che incrocia la precedente e the line passing through the pupil of our patient. So, here is the second BAP. Questo è il secondo BAP. Il terzo è un centimetro al davanti del trago. The third BAP is one centimetro anteriorly to the tragus. Here. Il quarto è un centimetro sopra l'angolo mandibolare. Il quinto lo troviamo a un terzo della linea passante per il mento, un terzo dell'altezza, andando almeno un centimetro e mezzo laterale. For the fifth BAP, we have to find the line passing through the chin at one third of its height and go laterally one and a half centimetri. So, our BAP are one, two, three, four, five. E dobbiamo fare lo stesso dall'altra parte. We have to do the same thing on the other hemiphase. So, two centimetro form esterna lovi on the zygomatic bone. Find the interlining from this line and this. One centimetro anteriorly to the tragus, one centimetro above mandibular angle and one and a half centimetre laterally to the line passing through the chin. Parlando del prodotto, noi possiamo decidere se trattare la paziente con un ml e quindi mezzo per emiviso, oppure con due ml e quindi uno per viso. O addirittura, se la paziente avesse bisogno di maggiore quantità, possiamo utilizzarne tre e quindi uno e mezzo per emiviso. Talking about the amount of product we have to use, we can use just one ml of product using half ml for hemiphase. Or we can use, for a middle grade of ringles, we can use one ml for hemiphase. So, two ml for all the treatment or even reach three ml. For this patient, two ml are enough. But normally it's 2 ml. Yes, two ml. This is the box, sterile box. Present you with two needles. 30 gouge needles, because the product is extremely fluid. La confezione si presenta con due aghi da 30 gouge e il 30 gouge pur essendo un ago minuscolo è più che sufficiente per l'iniezione di questo prodotto che è estremamente fluido. Very easy inject, easy flow. In this patient, I don't need to use any hair cuff, because the face is completely free. So, same patient. Thank you. I can buy your hair cuff as well. I can buy your hair cuff as well. Then, go to the next company, I need to recommend to care. prepariamo il prodotto con lago l'overlock con l'aggancio l'overlock un'altra cosa importante è la profondità delle iniezioni un'altra cosa importante è la profondità dell'iniezione perché questi non sono le superfici superfaciali dobbiamo andare a 6-7 mm all'interno della cute e iniettiamo 0.2 ml di soluzione ovviamente potete scegliere anche se iniettarne di più in un punto rispetto ad un altro in base alle caratteristiche della paziente ovviamente è possibile to tailor the treatment on the particular necessity of the patient grazie come vedete la paziente non avverte assolutamente dolore as you can see the discomfort for the patient is minimal. No. 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 prendiamo la seconda siringa we go to use the second siring we connect lower lock needle and start again 6 or 7 mm 0.2 amount per product third bap andiamo sul quarto we go on the first bap with the same depth and the same amount because my patient has no particular necessity in questa paziente ho scelto di usare una distribuzione omogenea del prodotto perché non ha particolari esigenze so just finish the treatment very easy, very quickly nessun dolore, nessun fastidio per la paziente no pain, no discomfort for the patient 10 minutes and the patient can go home no pain this is the result questo è il risultato finale there is two questions the patient doesn't feel any pain no, no pain and don't use any anesthetic cream no no anesthetic cream no anesthetic cream nessun tipo di anesthetico locale e nel prodotto non c'è lidocaina how much time is needed afterwards to reach the peak of the results in this treatment I think two to three days in the first days it's possible to have a sort of edema in the area we injected but in two, three years in two, three days we can obtain the maximum effect and it can stay for almost one to two months and the reason why the patient alcune pazienti lamentano un minimo di edema nella giornata successiva al trattamento e per i due giorni successivi ma di edema localizzato nelle zone delle iniezioni è legato anche al fatto che l'acido ialuronico richiama sia sangue che acqua quest'edema scompare nel giro di due o tre giorni e il risultato si mantiene per uno o due mesi in young patient is possible to do just two treatment during all the year so one today and one in six months quindi nelle pazienti più giovani che hanno minori esigenze è possibile fare solo due trattamenti nell'arco di un anno uno ogni sei mesi domanda in italiano non è necessario alcun massaggio? se vuoi, sì altrimenti il prodotto da solo si diffonde per esempio in questa paziente che ha comunque un tessuto abbastanza consistente posso anche lasciare il prodotto lì dov'è perché essendo un prodotto minimamente cross-linkato si distribuisce tranquillamente attraverso la rete vascolare nella zona iniettata trying to translate a colleague asked me se c'è necessità di un messaggio it depends from the patient's skin because in this patient has a very good skin so I prefer to do no message because the product itself will spread out during the day after the treatment on the hour the hours after the treatment when you have a dry skin or not very healthy skin it's prefer to do a message for avoiding the visibility of the injection another question interval between treatment monthly monthly or if the patient is young you can do it every two three months just for maintaining any question the technique is the same on the neck on the neck we can do injection using two lines like this and choosing a point in the middle line and two laterally like this one two three four five one two three four five in this case multi multi-point technique classic multi-point multi-point or if you want to use ten injection points like in the face you can use my technique one center and going laterally just two points for my neck okay other questions the next patience no okay okay two minutes two minutes two minutes break and we can start with another patient one 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 Grazie a tutti.